da qui in alto il nostro pianeta sembra perfetto è solo se guardiamo più da vicino che iniziamo a vedere gli effetti dei nostri consumi lo compriamo lo seppelliamo lo bruciamo ora non possiamo più ignorarlo c'è qualcuno che sa cosa sta succedendo a noi tutti non è solo un problema locale si può permettere che la nostra società usegetta diventi parte della biologia dell'oceano produciamo troppi rifiuti non pensiamo le conseguenze quando buttiamo via la roba stiamo avendo un impatto ecologico sul nostro ambiente nella sua totalità la natura funziona costruendo e distruggendo costruendo e distruggendo continuiamo a mettere cose nell'ambiente che non si degradano tutti oggi hanno nei loro corpi queste sostanze chimiche sono dappertutto se aumentano nel corpo diventano la causa di tante malattie la donna ha un modo per eliminarle si chiama avere un bambino possiamo cambiare lo abbiamo fatto con il fumo il divieto di fumo abbiamo fatto con le cinture di sicurezza indossando le cinture l'abbiamo fatto anche con il vero al volante quando diventò inaccettabile dobbiamo farlo con i rifiuti forse i tempi cambieranno che lo faremo cinture di sicurezza indossando le cinture di ferite per fare siamo abinati Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.